Giornata nera domani nel paese, ovviamente anche nella nostra regione, per lo sciopero nazionale di 24 ore nel settore dei trasporti. Gli autoferro tranvieri incroceranno le braccia per chiedere il rinnovo del contratto, ma anche risposte certe sul futuro occupazionale. È una protesta più che legittima tenuto conto che i lavoratori del settore sono in attesa del rinnovo del contratto dal 31 dicembre del 2017. Quindi sono ben cinque anni che è una categoria che tra l'altro ha avuto un ruolo determinante nel periodo del lockdown, vede negarsi un diritto sacrosanto. In Abruzzo prosegue anche sul fronte dei concorsi e delle nuove assunzioni il braccio di ferro tra le varie sigle sindacali e i vertici della tua società unica di trasporto locale. Proprio questo è il punto, la tua rappresenta un po' la problematica a livello regionale di quanto noi sosteniamo a livello nazionale. Non si può pensare di creare una nuova povertà nei lavoratori di questo settore. Essere assunti anche con contratti a tempo indeterminato, ma avere un salario di poco superiore ai 1000 euro, significa creare un lavoro precario sia in termini economici che in termini di normative e di diritti di questi lavoratori. Voi continuate comunque il colloquio con l'azienda? Noi siamo sempre disposti al dialogo, sempre che qualcuno sia intenzionato e abbia voglia di ascoltarci. Il 31 marzo terminerà l'emergenza nazionale, che cosa potrà accadere sul fronte dei trasporti sotto questo punto di vista? Allora innanzitutto noi ospitiamo una ripresa sia del trasporto pubblico locale ma anche di tutte quelle attività di trasporto private, penso ai noleggi, che hanno sofferto tantissimo in questo periodo. Anche lì c'è tutto un mondo che va tutelato e salvaguardato, quindi l'auspicio è che attraverso i trasporti il Paese e la nostra Regione riparta.